ciao c'è un grande desiderio umano di non fare più esperienza delle scontri non fare esperienza di avere vari punti della vista e oggi a me suonano queste parole questo desiderio umano delle prime comunità comunità a quale si è rivolto questo vangelo prime comunità che hanno fatto esperienza di scontri fra vari modi di interpretare questo che è successo risurrezione unità padre figlio spirito santo quelle tutte cose domande hanno fatto tanto che uno contro altro è pensato io ho ragione altro io ho ragione era grandissimo sofferenza delle persone che sono vissute in questi tempi e quindi quando giovanni scrive questo vangelo nelle parole di gesù suona questo desiderio forse per far anche sentire alle queste tutte nostri vari scontri che c'è dietro di questo dietro queste differenze uno grande desiderio della unità umana è quello penso che quando gesù dice che ha dato sulla vita per la pecore che vuole che c'è una grande unità delle pecore che ci sono qui ci sono la ma lui vuole uno non si vuole questo interpretare in questo modo che tutti si sforziamo essere differenti che tutti crediamo in uno modo no visto questa tutta varietà oggi di opinioni di tutto penso davvero che ognuno scopre qualche altro particolarità della fede importante ma come amarsi e come crearsi comunità vera con le persone con quale non siamo d'accordo questa è una grande domanda che si pone oggi proviamoci no dividi con me la tua opinione grazie